Ecco, dottoressa Pugliese, perché il MUDEC e qual è il futuro di questo museo? Il MUDEC è perché Milano è una città internazionale, il MUDEC racconta le relazioni della città con il resto del mondo. È una città che è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista del mercato, dal punto di vista dell'industria, degli scambi economici. E oggi queste collezioni e questo museo permettono di parlare di contemporaneità in termini innovativi e quindi anche interdisciplinari, quindi anche con un collegamento con l'arte contemporanea, con la moda, con il design. Ecco, se mi consente una domanda più personale, ecco, al di là del suo lavoro, al di là del MUDEC, cosa c'è, direbbe Maurizio Costanzo, cosa c'è dietro l'angolo, quindi nella sua vita personale? Lei ama andare al cinema, al ristorante, a teatro, ama vedere altre esposizioni, la concorrenza, cosa fa nel tempo libero? Allora, dietro l'angolo c'è che tra pochissimo ritorno negli Stati Uniti perché la mia famiglia vive in California e io ho il privilegio come dirigente, occupandomi di un museo delle culture e quindi di un museo di taglio prettamente internazionale, di lavorare nei periodi a distanza dalla California dove insegno anche all'università e quindi dietro l'angolo c'è questa, diciamo, doppia vita con tutto l'arricchimento ma anche la fatica che ne consegue.